Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. Con queste parole che troviamo nel Vangelo di questa domenica, Gesù desidera farci comprendere che è felice colui che sa guardare ed ascoltare. Chi sa accogliere la presenza di un Dio che si dona a noi con grande generosità, senza lesinare, poiché è come il seminatore della parabola che con abbondanza getta semi ovunque. Semi che però spesso non sappiamo accogliere e vedere. Il problema infatti è nostro semmai, che non sappiamo accorgerci ed accogliere ciò che il Signore ci offre. E i due canali per renderci conto di ciò che Dio fa per noi sono proprio lo sguardo e l'udito, guardare e ascoltare. Beati invece i vostri occhi, beati invece i vostri orecchi. Possiamo avere un'ottima vista ma spesso non sappiamo vedere perché troppo ripiegati su noi stessi. Guardiamo soltanto a ciò che non abbiamo, a ciò che non va e non ci rendiamo conto dei doni che ci circondano e con i quali il Signore si fa presente nella nostra esistenza. Vedere bene vuol dire imparare ogni giorno, mattina e sera a ringraziare, dicendo a noi stessi e al Signore nella preghiera quali sono gli aspetti positivi della nostra giornata, della nostra esistenza. Già solo per il fatto che siamo vivi, per le persone che ci vogliono bene, per le capacità e le possibilità che abbiamo. Nulla è scontato. Questo esercizio va svolto quotidianamente. Perché? Perché spesso siamo come la strada, il terreno sassoso o i rovi, che Gesù cita nella parabola, dove il seme non fa presa. Anche se noi oggi ringraziamo, dopo poco rischiamo di ricadere nuovamente in quelle che sono le lamentazioni. Perciò ogni giorno dobbiamo rinfrescarci la memoria, per renderci conto che la vita, nonostante i problemi, le fatiche, le sfide, le contrarietà, gli imprevisti non è mai da buttare, perché è dono di Dio. Vedere bene vuol dire anche imparare la difficile e l'importantissima arte del saper vivere il momento presente, mentre spesso ci comportiamo come se fossimo alla guida di un'auto e invece di guardare ciò che abbiamo davanti ci preoccupiamo di ciò che potrebbe accadere 5 km più avanti. Spesso viviamo così. Se imparassimo invece a concentrarci sul qui e ora, ci accorgeremmo che ogni singolo momento della giornata è prezioso e in più avremo meno la sensazione di sentirci dissipati e sfibrati. Saremmo più all'interno del tempo, godremmo in modo diverso il tempo e non ce lo sentiremmo sfuggire tra le mani. Spesso non sappiamo vedere il bello di ciò che viviamo perché non sappiamo gustare l'istante, siamo sempre con la testa e il cuore altrove. Vedere bene è anche saperci guardare attorno e non viaggiare con una specie di paraocchi e saperci stupire di ciò che ci circonda, di chi ci circonda. Ma anche proprio saperci stupire di ciò che ci circonda, sia che viviamo in campagna, in montagna, al mare o in città, e renderci conto delle bellezze che abbiamo attorno, così come delle persone che abbiamo accanto, nelle quali spesso Dio si rivela, in quelle fastidiose così come in quelle che ci amano, perché Dio si rivela in entrambe. Troppo spesso sfrecciamo accanto agli altri, dando per scontato che ci siano o rischiando di classificarli in fretta. Quello è rompiscatole, punto e basta. È soltanto un ostacolo. A volte quando ci troviamo nella prova ci lamentiamo con il Signore, lo accusiamo di essere assente, mentre spesso è lì accanto, accanto a noi, in chi si sta prendendo cura di noi, in chi c'è, in chi ci sa accogliere, in chi ci sa ascoltare, in chi c'è in questo momento accanto a me. Quest'ultimo aspetto, l'ascolto, è l'altro canale, come dicevo prima, che ci consente di accorgerci della presenza di Dio. Troppo spesso siamo in ascolto solo di noi stessi, dei nostri ragionamenti, dei nostri bisogni, dei nostri calcoli, dei nostri sentimenti, mentre occorre imparare a cambiare disco, innanzitutto dedicando ogni giorno qualche minuto per leggere, ascoltare e meditare la parola di Dio, che ci offre spunti e prospettive diverse. Anche in questo caso è un lavoro da svolgere quotidianamente, perché siamo altamente scostanti e le parole di Dio tendono a non attecchire in noi, passano, ci sfrecciano vicino e sono veramente molto poche quelle che riescono ad attecchire in noi. Il Signore oltretutto si rivela anche nelle parole di chi incrociamo sul nostro cammino, delle persone che incrociamo, nella nostra esistenza. Come possiamo allora accorgerci di Dio e del suo immenso amore per noi se non sappiamo aprire lo sguardo e non sappiamo aprire le orecchie? Come possiamo essere davvero felici se non impariamo a guardare e ad ascoltare ciò che ci accade nella realtà nella quale viviamo? Buona domenica a tutti!